Cosa ne pensi di questa Fiorentina e qual è il tuo pronostico? Penso sia una squadra di giovani con comunque diverse qualità Speriamo che stasera le tirino fuori e facciano vedere quanto si valga veramente Pronostico 2-1 Fiorentina, dai siamo ottimisti Sono il tifoso della Fiorentina, spero che la Fiorentina vinca Mi piacerebbe veramente tanto se vincesse E un pronostico? Ma credo sia impossibile farlo La partita Fiorentina-Juventus non è possibile fare i pronostici Ne pensi di questa Fiorentina e un pronostico? La Fiorentina secondo me ha le carte regola per fare un buon campionato Speriamo che torni presto Piazza a fare la differenza Perché secondo me è un giocatore forte E poi come collettivo secondo me ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni Per stasera è una partita difficile però il Franchi è pronto a spingere Otre i 40.000 secondo me magari non andrà come ci speriamo Però speriamo di poterla vincere questa partita Non è sicuramente delle migliori perché dopo 5 pareggi di seguito bisogna svegliarci Oggi è la partita più difficile dell'anno contro l'avversario più forte che ci possa capitare E sarà difficile fare il risultato contro loro Io ci spero da tifoso ma ci spero e basta Per me il pronostico ti dico un 1-1 per fiducia Credo che la stasera Fiorentina debba avere una svolta e questa potrebbe essere la partita giusta Abbiamo avuto tanta sfortuna in questi 5 pareggi Però la fortuna bisogna anche avercela, portarcela per conto nostro E il pronostico oggi è difficile perché è un po' come dicono Davide contro Gollia Però la speranza è l'ultima a morire Sicché 2-1 per noi Godi Simeone